Cari amiche e cari amici sportivi, Domani, 21 maggio, avrebbe dovuto svolgersi a Castelponsiano il Meeting Internazionale di Atletica Uiranto Veda, Simul Currebant. Campioni olimpici avrebbero corso per la prima volta con atleti paralimpici, atleti con disabilità mentale, rifugiati, migranti e carcerati, che sarebbero stati anche giudici di gara. Tutti insieme e con pari dignità. Una testimonianza concreta di come dovrebbe essere lo sport, cioè un ponte che unisce donne e uomini di religioni e culture diverse, promuovendo inclusione, amicizia, solidarietà, educazione. Cioè un ponte di pace. Domani non si potrà correre con le gambe, ma si potrà correre con il cuore. L'anima di questo Meeting inclusivo e solidale, correre insieme, e così i tantissimi atleti che hanno aderito e che con piacere avrei incontrato personalmente, metteranno a disposizione alcuni oggetti e esperienze sportive per un'iniziativa di beneficenza. L'intero ricavato sarà devoluto al personale sanitario delle ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia, tutte e due simboli della lotta contro la pandemia che ha colpito tutto il planeta. È un'iniziativa per aiutare e ringraziare le infermiere, gli infermieri, il personale ospedaliero. Sono dei eroi, eh? Stanno tutti vivendo la loro professione come una vocazione, eroicamente mettendo a rischio la loro stessa vita per salvare gli altri. Gesù aveva detto «Nessuno ha più amore che quello che dà la vita per gli altri». Sono contento che questa iniziativa sia promossa da Atletica Vaticana, una realtà che testimonia concretamente sulle strade e in mezzo alla gente il volto solidale dello sport. Il primo gesto di Atletica Vaticana è stato quello di accogliere come atleti onorari alcuni giovani migranti e una bambina con una grave malattia neurodegenerativa. Oggi sono venuti qui a trovarmi. Con l'Atletica Vaticana collaborano a questa iniziativa Le Fiamme Galle, il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e il Cortile dei Gentili, struttura del Pontificio Consiglio della Cultura che promuove l'incontro e il dialogo tra credenti e non credenti, hanno tutti dimostrato sempre una particolare sensibilità nei confronti dei bisogni reali delle persone, in particolare per le famiglie assistite dal dispensario pediatico Santa Marta, attivo da quasi cent'anni qui in Vaticano. Insieme a loro, a questo progetto di sport inclusivo e per tutti, collabora anche il Comitato regionale Fidal Lazio. Vi incoraggio, cari amiche e cari amici sportivi, a vivere sempre più la vostra passione come un'esperienza di unità e di solidarietà. Proprio i veri valori dello sport sono particolarmente importanti per affrontare questo tempo di pandemia e soprattutto la difficile ripartenza. e con questo spirito vi invito a correre insieme la corsa della vita. Grazie per tutto quello che fate. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.